C'è anche il Partito Democratico nel progetto fondamentalmente legato al civismo che sta portando avanti Giovanni Legnini per il centro-sinistra. A differenza del centro-destra, dove compaiono in maggioranza i simboli dei partiti tradizionali, nella coalizione di Legnini il PD è l'unico simbolo nazionale presente. Il Partito Democratico della provincia di Chieti ha fatto una lista in cui espone assolutamente con molta chiarezza e determinazione il suo simbolo, ma con la stessa chiarezza e determinazione ha fatto di tutto affinché fosse aperta la società civile, abbiamo indicato come nel simbolo anche la figura di Giovanni Legnini che rappresenta questa ampia coalizione e noi all'interno di questa ampia coalizione, nuovo modello di coalizione, nuovo modello di metodo, abbiamo tentato di fare una lista che fosse nuova, innovativa e rinnovata anche aperta la società civile rispetto al PD. Su quali temi punterete? I temi sono quelli del lavoro, sono quelli dei giovani, dei piccoli comuni e sono quelli delle persone che vanno via perché non pensano che in questa regione non dia abbastanza. In questi anni si è fatto tanto, ma noi pensiamo alla regione del 2030, del 2035 e non a quella del 2015. Vi siete dati degli obiettivi in termini di voti? Siamo dati l'obiettivo di essere la prima lista della coalizione perché tutta questa coalizione ha bisogno di un PD che sta in piedi e che sia forte, come tutte le coalizioni che sono di centro-sinistra. Intanto annuncia alla sua candidatura anche Francesca Buttari, vice sindaco di Francavilla al mare. Noi amministratori locali siamo stati proprio chiamati a dare un contributo importante. Credo che questo sia giusto, fortemente giusto, proprio per il contatto che noi abbiamo con i cittadini e con la rete civica. Io mi occupo di fondi comunitari, lo faccio nella vita come professione e quindi voglio portare veramente un contributo per rendere fluida la spesa di tutte le risorse che arrivano dall'Europa e mettere queste risorse soprattutto a servizio del lavoro e dei giovani.